La dama di uomini e donne sembra non essere particolarmente felice durante queste settimane e si mostra nelle sue storie Instagram sempre più triste e amareggiata. La conoscenza con Nicola Vivarelli sembra aver avuto un momento di stallo, la coppia infatti sembra non incontrarsi più, decidendo così di frenare la loro frequentazione godendosi l'estate da single. Gemma però sembra stia passando un'estate da dimenticare e la causa da diversi mesi è sempre la stessa. Cosa sta succedendo alla vita della dama? Lei pensava di aver trovato la felicità insieme a Nicola ma sembra essersi sbagliata di grosso. Il cavaliere infatti sembra più interessato ai social e alla sua popolarità mentre Gemma continua la sua vita tra Torino e Roma. La dama ha deciso di mostrarsi all'interno delle sue storie Instagram davanti al teatro per cui lavora, sottolineando quando la pandemia dovuta al Covid-19 abbia bloccato tutto. Il teatro dove la dama lavorava infatti continua ad essere chiuso senza sapere quando riaprirà, lasciando Gemma senza lavoro ma soprattutto molto amareggiata dalla situazione che sta affrontando. La Galgani ha così affermato e spiegato la reale motivazione della sua tristezza, le sue parole infatti sono state grande solidarietà per tutti i teatri con la speranza di non rivedere le poltrone ancora vuote. È forse perché Gemma è senza lavoro che Sirius ha deciso di non vederla più per l'estate? Chissà. E voi cosa ne pensate? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.